ciao a tutti e bentornati sul mio canale parleremo questa sera di the harder day fall un film che è uscito in anteprima ieri sulla piattaforma digitale netflix per la regia di james samuel con per esempio attori quali il riserva e del royal indo conosciuti a livello mondiale ola kate stanfield e regina king ovviamente ce ne sono altri è un film dove gli attori sono tutti di origine afroamericana quindi un film particolare del genere western non perché ovviamente detto non particolare perché gli attori siano afroamericani non era assolutamente mia intenzione dire questo un particolare perché stiamo parlando di un western particolare dico questo ovviamente dopo aver visto tutti i film western che sono usciti direi dal 1980 ad oggi con particolare attenzione ovviamente ovviamente a leone oppure a tarantino dopo aver visto capolavori come terre di confine dopo aver visto capolavori assoluti come sono stati il buono il brutto il cattivo per un pugno di dollari questo per dirvi che il genere comunque western è un genere a me caro la storia si dirama come la classica storia di vendetta dove il buon rufus buck irrompe e questo è l'inizio quindi non vi andrò quindi a fare spoiler che possano minare quella che è l'assolvibilità del film o la sua sostenibilità davanti a uno spettatore che non vuole spoiler comunque stavo dicendo che il buon idris elba che interpreta rufus buck piomba nella casa del predicatore durante il pranzo uccide la moglie uccide il predicatore e salva il figlio ma imprime sulla fronte del figlio una croce proprio qua passano gli anni incontreremo un pistolero errante nat love che va a vendicarsi di un uomo con un tatuaggio di uno scorpione proprio sulla mano dopo averlo colpito già in questa scena ci rendiamo conto che stiamo parlando una scena dei primi minuti ci rendiamo conto che stiamo parlando di un western un po atipico perché il colpo della pistola fa schizzare all'indietro in stile diciamo più action che western la vittima ci rendiamo conto quando si toglie il cappello che il buon nat love ha sulla fronte una cicatrice in questo modo poi scorrendo lungo la storia ci vengono presentati quelli che sono i compagni di viaggio di nat love e quelli che sono i compagni di viaggio di rufus back ognuno caratterizzato non sempre con forza non sempre con solidità gli stessi protagonisti a volte a mio avviso possono risultare lacunosi ma non è un difetto imputabile al film è semplicemente una scelta del regista james samuel che contorna questo prodotto lo costella di una colonna sonora veramente imponente importante che spazia dal genere di ambiente quindi da una musica d'ambiente per finire a un jazz e per passare attraverso anche probabilmente una musica reggae ovviamente è la mia opinione non sono un intenditore di musica mi scuso se dovesse avere sbagliato qualche genere però senza ombra di dubbio la colonna sonora è estremamente gradevole la scenografia e la regia riescono a rendere il prodotto sotto tutti i punti di vista solidi perché ovviamente la scenografia riesce a ricostruire in un modo dettagliato quelle che sono le ambientazioni i costumi di un'epoca che conosciamo bene perché l'abbiamo vista in milioni di film del passato che pian piano sono andati a scemare lasciando comunque lo spazio come già vi ho detto a grandi capolavori ricordo per esempio tubestone e why a pert due film che raccontano la storia la solita storia a mio avviso uno più mastodontico dell'altro ma sono pareri personali non ultimo non per ultimo abbiamo potuto vedere non da molto il remake il reboot o il remake dei magnifici 7 con denzel washington un film che comunque finché ho apprezzato ma magari non ha apprezzato la critica ma io l'ho apprezzato fa parte capisco del gusto personale tornando invece a the harder day fall possiamo dire che come vi ho detto la scenografia e la regia sono solide la fotografia è estremamente dettagliata questi ambienti vengono descritti immortalati con una enorme precisione forse in certi tratti un po troppo colore ma è dovuto lo ribadisco alla scelta del regista di proporre di produrre un prodotto che strizzasse l'occhio sia a tarantino sia leone onestamente ma è un parere personale nessuno se la prenda avrei strizzato un l'occhio a leone e un po meno a tarantino ma questo fa parte dei gusti personali lo ribadisco abbiamo un'interpretazione da parte degli attori solida vanno a costruire personaggi credibili ma non sempre stratificati cosa voglio dire voglio dire che non sempre il personaggio nonostante le oltre due ore del film viene trattato e cresce come dovrebbe crescere o come ci aspetteremo che cresca perché perché alcuni personaggi non riescono mai a esprimersi a uscire da quella infarinatura che ci viene mostrata all'inizio iniziano e terminano senza lasciare null'altro che qualche battuta che qualche immagine che qualche canzone e a mio avviso meriterebbero meriterebbero di più ma capisco che il prodotto se non sarebbe diventato da 25 ore ed era improponibile una storia come ho già detto una storia di vendetta di vendetta anomala che si dirama lungo tutto il west passando in prevalenza per città popolate da afroamericani arrivando anche per città popolate da bianchi ma che rimangono giusto giusto un sottofondo per dare più sostanza a una storia che se no rischierebbe di diventare banale affronteranno durante questa avventura amicizia rispetto amore ovviamente tutti i sentimenti che vengono curati ma quando qualcosa è caduto perdonatemi nel mio condominio quando ci aspettiamo per esempio uno scontro alla docol alla docolfield dove immaginiamo che le due pistole più veloci del west si vadano interfacciare le proponendo quell'epicità che apparteneva a val kirmer che apparteneva a dennis quade in film che ne hanno visti mastodontici in una parte piccola perché docoliday come sapete era un tigico quindi comunque malato ma era mastodontico e imponente nella sua velocità qua forse rimaniamo un filo delusi chiedo scusa ma ho dovuto tagliare vedrete un taglio sapete che non è mia abitudine ho dovuto tagliare perché c'è stato casino in casa quindi stavo dicendo e ribadisco che potrete rimanere delusi scusandomi ancora per questo taglio perché veramente toglie un po di autenticità alla per me ovviamente alla recensione no sembra costruita invece ho finito di vedere il film che sono dieci minuti comunque dicevo ci sono degli scontri che aspettiamo che almeno io aspettavo per ricostruire la magnificenza di certi scontri anche psicologici che avevo visto in altri prodotti questi vengono un filino disattesi certo con dei colpi di scena nulla è lasciato al caso però vengono comunque disattesi cioè ne troveremo di altri non di altri ne troveremo altri che probabilmente non erano invece prevedibili o ipotizzabili ma quelli che ci aspettavamo vengono un filino disattesi nel mio caso quasi tutti questo non vuol dire lo ribadisco che il prodotto non sia di spessore semplicemente bisogna capire che è stata intenzione a mio avviso ovviamente del regista di intraprendere una strada nuova una strada più giovanile più dinamica rispetto ai classici western che si andavano a incuneare su percorsi che generalmente erano più fissi e meno flessibili quindi su percorsi che erano già stati affrontati sotto ogni sfaccettatura da questo forse esula un po young gun e anche quello con leonardo di capio del quale oggi ora a misharon stone del quale ora a mente non ricordo il titolo però poi generalmente si è assistito a uno sviluppo più o meno piatto di un genere che comunque un po di piattezza la merita perché non piatto nel senso di dispregiativo cioè non voglio dire che sia piatto perché è una cosa brutta però l'western dovrebbe essere forse un filo meno dinamico no o almeno non dovrebbe c'è sempre stato presentato come un prodotto meno dinamico qui in questo caso invece si va verso una dinamicità che non appartiene al genere lo si fa in modo innovativo io apprezzo l'innovazione e in questo caso ho apprezzato il prodotto è innegabile però che andando verso la dinamicità si commettano errori che potevano essere evitati errori esclusivamente nello sviluppo delle scene non errori concettuali errori nella storia quello non sta a me giudicarli è una storia di vendetta che viene sviluppata in un modo anche abbastanza anomalo e piacevole per quello che ho potuto vedere io con sorprese che effettivamente non mancano e lasciano lo spettatore appagato però abbiamo degli scontri uno contro uno in particolar modo oppure uno contro tre o quattro dove ci sono per me degli errori concettuali cioè errori concettuali nello sviluppo del combattimento non che siano errori che vanno comunque a minare la bontà del prodotto lo ribadisco si sta parlando di un prodotto che ho gradito di un prodotto che vi suggerirei di guardare soprattutto a nella fascia direi 14 25 perché forse non siete ancora contaminati da quelli che sono i western vecchio tipo cosa che invece a me accade perché io sono totalmente contaminato io sono figlio come sapete oltre che vecchio sono figlio della vecchia generazione dove il western era il western poi è chiaro che però anche nella vecchia generazione c'è stato lo chiamavano trinità e continuano a chiamarlo trinità che sono capolavori assoluti senza tempo ed erano innovativi quindi l'innovazione è sempre gradita in questo caso l'innovazione è gradita perché ci offre una scenografia lo ribadisco una regia estremamente solida ci offre una colonna sonora per me mastodontica ci offre una recitazione veramente riuscita per alcuni personaggi esclusivamente accentuata per altri che però riescono a esprimere l'essenza del personaggio non totalmente ma la esprimono ma è una scelta in questo caso del regista che non poteva fare immagino come logico che sia un prodotto che durasse 25 ore cioè già così dura più di due ore se avesse approfondito e sviluppato ancora di più la complessità dei personaggi probabilmente avremmo avuto la storia infinita 4 che dire il finale il finale lascia un po tutti sorpresi per una vendetta che poi non è la vendetta che ci aspettavamo ma pur sempre vendetta lo scoprirete da soli guardandolo andiamo ora alla votazione come sapete scusate qua c'è il mio telefono per la console come sapete in molti casi in molti casi do ai voti in questo caso no sarete voi a giudicare questo prodotto a mezzo dei vostri commenti vista l'innovazione al genere che tenta di portare credo che il vostro giudizio dopo un'analisi tecnica dettagliata che spero di aver fatto mentre il cane sembra che aspetti che io faccia qualsiasi cosa per cominciare a variare dicevo mentre il vostro giudizio sia l'unico che conti proprio per questo motivo tra un rumore l'altro che mi ha costretto anche a tagliare una recensione vi invito ovviamente a lasciare i vostri commenti proprio qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo film che io ribadisco ho apprezzato non vi saprei dire quanto ho apprezzato ribadisco per l'ennesima volta a costo di essere pesante so di essere pesante strizza forse un po troppo l'occhio o cerca di strizzare un po troppo l'occhio a tarantino e un filo meno a leone io l'avrei strizzato un po più a leone e un po meno a tarantino ma sono esclusivamente gusti personali avrei forse sviluppato alcuni personaggi con maggior dettaglio e altri forse con minore però devo staccare perché sennò questo cane continuerà ad abbaiare voi a sentirlo attendo i vostri commenti non vi starò più a dire se volete iscrivetevi e se non volete non iscrivetevi non dirò più nulla mi rimetterò esclusivamente a ringraziarvi per la visione e augurare a tutti quanti voi un felice proseguimento di giornata grazie ancora